Salve, io sono Giuseppe Lafauci, sono un designer e ricercatore dell'Università di Bologna e sono qui a rappresentare ODAMP, che è un acronimo per Omnidirectional Absorber for Motorcyclist Protection e appunto, come dice il nome, il nostro obiettivo è andare a migliorare la protezione per i motociclisti o comunque tutti gli utilizzatori di caschi di protezione, quindi andiamo dal motociclismo al sport generico ma soprattutto alla sicurezza sul lavoro. Il nostro punto di forza è relativo al Smart Material che è presente all'interno del nostro sistema, che è appunto un fluido non newtoniano che riesce a offrire una protezione molto più adattiva in funzione dell'entità dell'impatto. Abbiamo iniziato questo progetto all'interno dell'Università di Bologna, il nostro obiettivo è da qui a breve di costituire la start-up e andare appunto a fare l'ingresso sul mercato nel settore moto di qui a un anno. Faremo poi una technology transfer per andare a occupare i settori del safety e dello sport. Questo è ODAMP, grazie.